Buongiorno, benvenizio io, tanto voglio salutare sia la Presidente del Centro Puglia, sia il tante e il collegatore dell'area Canna Nord, del Cessi, Tau del Salto, e sono qua per presentarci un sistema innovativo che dovrà andare a migliorare l'interazione tra i nostri commercianti, i nostri clienti e i possibili clienti, perché è un sistema che si basa sulla tecnologia. Ed oggi i sistemi tecnologici sono quelli che, soprattutto in un periodo dove abbiamo, dopo forza, avuto più dinestichezza con questa opportunità. Il periodo del Covid ha, in qualche modo, dato a tutti la possibilità forzata di utilizzare i sistemi tecnologici, o per il lavoro, o per avere contatti con i parenti, amici e quant'altro, nel periodo famoso di novità. Ricordando quel periodo famoso, dobbiamo anche pensare al grande lavoro che i nostri commercianti hanno fatto. sono messo subito alla produzione, hanno pensato di poter fornire le spese alle persone di novità, intanto nei vozi di prossimità, hanno fornito ciò che era il bene di prima necessità. e non per fare guadanti, ma proprio per offrire un servizio proprio alle persone che avevano necessità di ricevere il pane, dei saluti, di ricevere del formaggio e non avevano proprio la possibilità di uscire il pane. da un'anziana, di persone pubblica, che avevano un po' di prepari motivi, da ricordi. Per cui, e per questa iniziativa nuova, speriamo vada ad incontrare un periodo migliore, anche se, io mi raccomando sempre, stiamo attenti, non perdiamo le buone abitudini di avere ciò che avevamo imparato a fare, di stare a una certa distanza, di utilizzare le mascherine, di lavarci le mani spesso, di utilizzare i gel per la solidificazione, insomma, di fare tutte quelle buone pratiche, per essere appunto in atto tutte quelle buone pratiche che avevamo imparato a utilizzare, che sembra oggi, stiamo scordando, se è vero, come è vero, che l'andamento, fedele veloci, tuo e altra realtà, per cui, io spero che questa nuova opportunità, che prende in campo i numercianti del CCN di Cornacette, sia, come dire, benedetta, eh, benedetta da un periodo più felice, e veramente spero vivamente che tutto ciò vada a traforzare il tessuto commerciale, il tessuto delle attività e, soprattutto, a creare dei movimenti di conteggio, se possibile, anche nella connessione del territorio, in modo da far sì che il nostro territorio quanto meno ritorni ad avere quei numeri che lo hanno sempre visto come un territorio dove il nostro territorio, 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 per cui ringrazio tantissimo chi ci ha messo in gioco ancora una volta, passo la parola all'assessore del vicisindaco Florio Dalli, che ci dà qualche indicazione del progetto. Io, quando mi accordo ai ragionamenti, qui vediamo una Cornacette di un certo comitore naturale che guarda, effettivamente, verso il futuro, quindi si mette al passo i presenti con questa applicazione che va a, in qualche modo, ad unire tutte le realtà commerciali del territorio di Cornacette, quindi noi abbiamo un territorio un po' particolare. Quindi, Cornacette del territorio commerciale non è il centro di parete, sì il centro, ma la totalità della postura maggiore tra Cascina e Ponte Della, quindi, anche se c'è una difficoltà territoriale per, insomma, abbastanza nuova, perché è molto lunga, avranno un chilometri di stampo. Questa applicazione, in modo molto semplice, si va a unire tutti e dà anche una nuova spinta del commercio locale. La Giunta, naturalmente, ha accorto questa applicazione, ovviamente, con braccia aperte, perché è una boccata tale fresca, e la nostra speranza è che questa applicazione si estenda su tutto il territorio comunale, perché, alla fine, non è parla forza, e più siamo uniti e vicini, più riusciamo ad andare lontani. In questo, spero, spero veramente che tutta la sciaglianza colga quello che abbiamo fatto noi, questa applicazione, quindi la speranza è che download siamo subito, anzi, in modo da avere una risposta immediata. E in questo ci tengo, invece, anche a far presente che, come amministratore come giunta, abbiamo messo in capo anche un luogo, quindi, che è quello che noi andiamo a cercare la scornascente, perché, effettivamente, noi andiamo sul nostro territorio, perché vorremmo che tutta la sciaglianza, in parte del territorio, tornasse, in qualche modo, a essere vicina ai commercianti e anche allo stretto, quindi, di maniera più donna, per essere tutti con la cesta e calcinare, andare nei negozi di vicinato e sostenersi, perché, in questo modo, anche, come diceva prima il Sindaco, dobbiamo anche noi, in qualche modo, ringraziare i commercianti che ci sono stati vicini durante un periodo molto difficile, mettendo anche a rischio la loro salute, perché, tra l'ordine, c'è anche quelle storie. Quindi, io a questo punto lascerei la parola a Fina Zambini per parlarci un po' dell'applicazione e, in questo punto, anche per ringraziare l'audolestato di professori recenti, che, anche in questo periodo stato vicino, stiamo andando a canali un po' infettabili, però c'è sempre la buona risposta nel suo tempo, in questo periodo nuovo. Intanto vi ringrazio per l'opportunità che mi avete dato per poter presentare questo nuovo progetto che ha l'Associazione Comercianti di Fornacette. Effettivamente, l'idea è nata da due tematiche che avete affrontato sia a Medici che a Cane. La prima è stata durante il Covid, dove abbiamo visto la scienziata proprio del cliente di avere un contatto con i vari commercianti sia di servizi che di beni attraverso il mezzo virtuale che potrebbe essere il telefono, Whatsapp o Internet. Dall'altra parte, una realtà, come fornascete, è molto ridocata, una realtà geografica sfinanciata su questa Toscaro-Magnora, dove in quindici anni l'attività dell'Associazione è sempre stato molto difficile creare gruppo. Infatti, uno dei miei obiettivi principali nell'eventare con l'Associazione era ricreare un gruppo, uno spirito di gruppo, di fare un lavoro insieme. E quindi è difficile, dove geograficamente sei dislocato nello spazio. E quindi l'attivamento di queste due cose ha fatto venire in mente l'idea di fare una app. L'app ha un nome, si chiama Pornacom, e unisce una parte iniziale del nome della località, Pornacette, e Com, che è commercianti, ma richiama un po' anche il punto com, quindi questo gioco di parole. All'interno di Pornacom c'è un cuore e nella parte finale c'è un est, quindi che richiama qualsiasi il pacco Amiamo, Pornacette e Carcinaia e l'est che richiama la tecnologia in social. Questo lavoro è piaciuto così tanto, che già è stato organizzato, abbiamo già fatto le magliette, nella serata del 29, all'interno della cornice delle aperture del commercio estive, nel 29, all'ultima sera, verrà presentata l'app e nella presentazione chi verrà nei tre punti di Pornacette ci saranno anche delle attività musicali, giochi per bambini, varie iniziative, ma chi verrà e scaricherà l'app quella sera che avrà dei punti in omaggio, ma avrà anche in omaggio delle cose italiane. Abbiamo già pensato a dei palloncini con il mazzo Pornacom, le volte, cioè delle cose gadget veramente simpatici proprio per affrontare la presenza sul territorio. Già si chiedono di promuovere pubblicità con questo luogo, quindi insomma siamo molto contenti di questa cosa. L'idea è proprio di far venire la gente vedere il 29, i negozi sono aperti, e di venire a capire più di quel dato. Oltre all'attività dei negozi, una parte dell'app è legata al gioco. Cioè, chi viene a Pornacette avrà dei premi settimane, manali mentili e anche un premio finale di un viaggio. Quindi, come diciamo noi, venite a comprare il filipo tra Pornacette e manca tanta. Ecco questo è un po' l'idea. Vabbè? Si, non è un po' l'idea, non è un po' l'idea. Non è un po' l'idea, ma è un po' l'idea. Ma che ti vuoi avere sicuramente, tutti, tutti a chiacchi, tutti a chiacchi, la parola tra l'idea. Grazie per l'invito, grazie per l'invito, grazie per l'invito e a Romina, comunque come ha detto Ashby e Claudio, a ogni orario è proprio il periodo che abbiamo passato, con Romina è uguale, abbiamo un filo conduttore, io gli faccio anche complimenti nel modo personale che è come associazione, perché noi, tutti i decenni che ci siamo, viviamo tanti, le decenni naturali, vuol dire che con il suo vento di Romina si vede un po' un cambio di pasto, il concetto è che è anche uno dei più lungieri in zona, quindi è bene che venga materialmente sviluppato e proprio il discorso della Lab va in questa direzione. Un sviluppo ecologico, è giusto, quindi vediamo anche noi come associazione che anche conosciamo, tutti in meno, però debbano fare l'uso di modi, dipende, come ho visto negli ultimi anni, a parte i grandi costi, non faccio l'uomo per non fare pubblicità, però non riconosciamo, anche altre pubblicità, la grandezza si stanno spingendo sull'online, un online che dovrà, perlomeno, prendere una buona percentuale di qui a 10 anni, che dovrebbero avere tante attività di vicinato, quindi diciamo che con questo anticipo si romina che il tuo gruppo direttivo, nuovamente insomma, sono appassi, te lo dico anche perché insomma, sei la stima a livello imprenditoriale che abbiamo, che ho in te, quindi sicuramente che è un gruppo anche un collettivo che ho lavorato a quest'anno. Io credo e spero, non voglio fare diciamo una proposizione anche un po' troppo avanti, però sicuramente come tante altre manifestazioni, tante altre idee che il CCN ha portato avanti, che comunque insomma negli anni hanno dato modo di sviluppare quello che è il rapporto tra i commercianti, di sviluppare insomma pubblicità, quella che è Fornacete, e quindi anche questa sicuramente l'attività. Siamo positivi, abbiamo bisogno, sarà sicuramente ben accetta anche per la cittadinanza, anche perché insomma ci sono dei premi importanti, quindi insomma le persone, gli utenti si ritrovino che non ci conoscete i scaricamenti in un lato di quantità, il supporto della nostra associazione è stato, lo sapete, lo sai, quindi massima disponibilità a qualsiasi ora, a qualsiasi giorno dell'anno. Grazie. 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 Grazie.